Ehi, salve cowboy! Puh, molto meglio. È la festa delle barche Drago. E una festa che si rispetti va conclusa con delle esplosioni in grande stile. Sai muoverti bene sul narcato. Già, ma il problema è che il clan Kelly ha deciso di mettersi in mezzo. Hanno preso il controllo di Chinatown, si sono fregati il mio carico e io non avrò un soldo dai miei clienti. Quindi io dovrei recuperarti la merce? No, devi sbarazzarti della concorrenza. Conorrenza. Vai dalle loro parti, fai partire i fuochi d'artificio per attirarli allo scoperto e boom! Il boom è quando tu gli spacchi la faccia. Ricevuto. Llamate il 9-9-9! Allora, oltre ai fuochi d'artificio cosa vendi? Oddio, posso trovarti di tutto. Anche cose un po' malate, se vuoi. Tu sei uno da cose malate, Pierce. Lascia perdere. Credo di essere a Chinatown. Credi? Non lo so, sono nuovo di qui. Vedi l'ologramma gigante di un drago sopra di te? Ah, sì. Allora sei a Chinatown. Entra nella base dei kegli e fai partire i fuochi d'artificio. Quello è il terminale di controllo. È davvero il modo migliore per stanare i kegli? Cos'è? Vuoi recapitare degli... Viti ufficiali? Non pensarci troppo, Pierce. Vedranno la loro merce saldare in aria. Arriveranno di corsa. Uh-uh, che spettacolo! Non sembra un po' il 4 luglio. Sta funzionando. Kelly in arrivo. Grandioso. Buona cazza, pistolero. Pistolero? Merda, il capo non ci casca. Nuovo piano. Ci vuole un po' di hacking. Un po' di hacking? Non lo so. Capitan Hacker, sei tu. Trova un altro hub, cancella dei fai, cose così. Fa uscire il capo allo scoperto. Ho già perso il conto dei soprannomi. Ehi, tu non puoi stare qui. Vai, termotipo stesso. Ehi, mi serve il vostro intervento. Ok, proviamo a cancellare il sistema. Devo riferarmi! Vole! Fa quello che sai! E' di peggio di un ragno. Un ragno che spuole. Stai avviando un po' di connessione. A porco! Sta funzionando! Trova un altro po' da hackerare. Stai avviando un'altra. Stai avviando un'altra. Continua cowboy, stai attirando tutti i pezzi grossi. Hai un bel respirone? A che gioco stai giocando? C'è lo fatto a tiro! Spegniamo tutto. Abbiamo visite di un certo peso. Deve essere il capo. Neutralizza il nemico e il giro lusco di Chinatown sarà stroncato. Forza, cerchiamo bene. Già seminati. Bersaglio abbattuto. Bene. Ora esci da lì. Bersaglio abbattuto. Due pezzi di merda. Dovevi morire tra questo te. Ma quanti fuochi d'artificio avevi là dentro? Che vuoi che ti dica? Io vendo all'ingrosso. Mi hai fatto un gran favore, Pierce. Avrai la tua ricompensa e farò anche uno sconto a Connie sul suo prossimo ordine. Il piacere è stato mio. Ci incontreremo alla frontiera, cowboy. A presto.